signori buongiorno e bentornati sul canale del master cae io sono il master cae il vostro ospite su questo canale e benvenuti al primo video del mese degli speciali al master cae che come ogni anno inizia con il video per il compleanno del canale e siamo arrivati all'ottavo anno per il canale del master cae raga in un modo o nell'altro dovete fermarmi come dicevo questo è solo il primo di una serie di speciali perché settimana prossima ci sarà l'edizione del 2024 dei racconti del terrore di halloween e la settimana ancora dopo ci sarà lo speciale sui luca comics anche quest'anno sarò presente perché abbiamo un paio di idee in merito per scrivi la tua avventura insieme a mauro ma ne parleremo tra un attimo immagino che chi sia arrivato nuovo quest'anno si stia chiedendo perché il complanno del canale arrivi in realtà stagione già iniziata e non sia il primo l'ultimo video il motivo è che il primo video del canale master cae è uscito il 23 di ottobre del 2016 che dovrebbe essere mercoledì scorso per chi sta guardando questo video nel giorno in cui è uscito per cui sì la prima stagione è stata due mesi più corta fondamentalmente e quindi quelli che avete visto finora erano gli ultimi video dell'ottava e non i primi video della nona stagione tecnicamente con questo video si chiude ufficialmente l'ottavo anno di trasmissione per il canale del master cae e con lo speciale di halloween della settimana prossima inizia il nono comunque bando alle ciance abbiamo un sacco di cose di cui io devo celebrare me stesso nel video auto celebrativo quindi andiamo a vedere cosa è successo nell'ottava stagione cosa ci si aspetta per il futuro poi alla fine arriveranno le vostre domande questo sarà un anno da ricordare perché abbiamo avuto un sacco di ospiti e collaborazioni perché tutta la parte teorica di quest'anno è stata dedicata alle culture del gioco di ruolo abbiamo anche fatto uscire una nuova rubrica dedicata solamente a quello e per parlare delle varie culture varie scuole di pensiero riguardo al gioco di ruolo abbiamo avuto una serie di ospiti che ringrazio ancora per essersi offerti volontari che sono venuti qui a parlare di come loro conducono il gioco tra l'altro l'idea iniziale di quella rubrica che doveva essere una serie molto corta di video che illustrano le varie culture ma poi sono arrivate talmente tanto domande in merito che la serie sta andando avanti avete già visto un paio di video nei mesi scorsi e ne arriveranno altri durante questa stagione diventerà probabilmente la rubrica del canale dedicata a regole game design qualcosa del genere anche se io non sono un grande esperto quindi probabilmente vedremo in seguito altri ospiti per i contenuti più regolari del canale la pratica del gioco di ruolo mettiamola così ci siamo concentrati sui personaggi andando sia a vedere i personaggi giocanti i pg e qual è il loro ruolo e cosa ci si aspetta da loro all'interno nei vari tipi di gioco ma anche dei png di come caratterizzarli introdurli e soprattutto come raggrupparli le varie organizzazioni di aiutanti o antagonisti che appariranno all'interno delle quest dei giocatori argomento che stiamo tra l'altro riprendendo proprio in queste settimane sul canale simians ludens vi lascio linkati qui in altri video in cui stiamo appunto creando un'ambientazione per il suo canale e stiamo discutendo delle fazioni che andranno a caratterizzarla e stiamo anche litigando in merito ma quello è il bello di questo genere di cose tra l'altro quest'anno nuovo traguardo per il canale abbiamo superato i 1400 iscritti come sempre a me sembra che siano troppi io pensavo che aveva avuto 10 amici miei a guardarmi ma a quanto pare voi avete pessimo gusto cosa posso farci e tra l'altro con questo video non andiamo a celebrare soltanto il nono compleanno al canale del master cae ma andiamo a celebrare anche il terzo anno dell'esistenza dei social del master cae perché tre anni fa in occasione del compleanno aprì ufficialmente il server di disco e gruppo di telegram che oramai hanno superato un totale di 100 iscritti soprattutto il gruppo telegram che io mi aspettavo sarebbe servito soltanto per comunicazione di servizio in realtà è diventata lab più attivo dell'intera comunità tra l'altro se volete partecipare trovate in descrizione al video i link per entrambi i gruppi perché lì dentro e dove vengono fatte le iniziative comunitarie che settimana prossima potrete vedere per i racconti di halloween ma quest'anno dobbiamo citare per forza perché siamo arrivati alla seconda edizione del mega dungeon della comunità sì oramai sono due anni che il progetto va avanti e quest'anno abbiamo appunto creato le varie fazioni interne al mega dungeon e abbiamo avuto anche una serie di ospiti apposta per quello che ci hanno fatto vedere come rendere l'ambientazione da una serie di fogli di carta a un'ambientazione vera e propria che può essere distribuita o anche pubblicata quindi voglio ringraziare tutto lo staff di fabula crew con cui tra l'altro da più di un anno che collaboro per la creazione di un gioco di ruolo vero e proprio armalia che probabilmente vedrete comincerete a vedere i primi preview l'anno prossimo e se tutto va bene per il undicesimo compleanno e il canale probabilmente potrò presentarvelo nella maniera più appropriata seguite il canale anche per questo perché è molto probabile che dopo capodanno con inizio del 2025 inizieremo una serie di play test molto estesi quindi sicuramente sui social vedrete annunci e vedrete l'organizzazione probabilmente di una vera e propria campagna però in questo momento in cui sono registrando non vi soglie niente di specifico quindi seguite i social per ulteriori informazioni continuando sull'argomento glorificare me stesso non possiamo non parlare di scrivi la tua avventura il libro che abbiamo scritto insieme a mauro longo su cui tra l'altro lui in questo periodo sta facendo una serie di video di approfondimento vi lascio anche questi linkati qui in alto se siete curiosi di sapere cosa c'è scritto che tra l'altro rappresenta il primo vero e proprio oggetto del merchandise del canale quindi se volete contribuire a questa baracca trovate in descrizione il link per andarlo a comprare oramai le copie fisiche sono esaurite ne sono andate via più di 300 ma c'è il print on demand su amazon e stiamo lavorando per vedere un'edizione kindle ma per adesso è ancora in forze quindi se volete leggere il libro trovate qua sotto il link per prenderlo direttamente su amazon verrà stampato e vi arriverà direttamente a casa perché lo so che siete pigri tra l'altro dato che il grande successo di scrivi la tua avventura in realtà sono stati i segnalibri voi non sapete qual è il mercato di collezionisti che c'è dietro anche quest'anno a lucca ripeteremo l'iniziativa vienici a cercare quindi se incontrate me o mauro a lucca chiedete gli segnalibri ne abbiamo ancora un centinaio forse probabilmente meno ma ce ne porteremo dietro un po e li distribuiremo a tutti quelli che ci vengono a salutare voi non sapete ma c'è gente che mi ha salutato se ne andate poi tornate indietro per chiedergli esplicitamente quindi sì c'è gente che ci tiene e diciamo che probabilmente per quest'anno mi sono auto celebrato abbastanza anche se in realtà devo ringraziare voi che questi video li guardate se il canale ha un minimo di successo quindi come ogni anno per ringraziarvi il video del compleanno è dedicato ai trivia ho chiesto a tutta la community se avesse delle domande da fare in merito a me il canale e come ogni anno ne sono arrivate un bel po quindi andiamo a vederle e cominciamo da dave che tra l'altro è uno dei membri di fabula crew e quello che si è occupato delle illustrazioni ma di cui avete potuto anche vedere il lavoro per quanto riguarda il mega dungeon perché è lui che ha illustrato alcuni dei personaggi fondamentali tre domande per dave il personaggio che hai ruolato a cui sei più affezionato ce ne sono un paio ma devo per forza citare a marron il guerriero laudero draw che giocavo all'inizio della terza edizione che mi sono portato avanti per otto anni anche di più ma probabilmente il personaggio a cui sono più affezionato perché quello che ha proprio fatto più cose è capitano clearwater del proud mary il capitano corsaro che ho usato sia come personaggio per dark eresy il gioco di ruolo di warhammer 40.000 sia ai live di dark eresy quindi uno dei personaggi che ha la storia più complessa e strutturata e tra l'altro anche quello adesso è diventato un png in una campagna di dark eresy che sto conducendo in questi anni master k e si concede ancora il lusso di fare il giocatore e non il master ogni tanto succede sempre più raramente per gli impegni ma sì tra l'altro è successo l'ultima volta poche settimane fa ero a un evento ai viali di torino una prima edizione di una fiera del gioco di ruolo probabilmente avete visto le foto sui social e mi è capitato di partecipare come giocatore a una sessione demo di anatema dato trovate il creatore sul gruppo telegram lo salutiamo e sono riuscito a giocare per la prima volta dopo svariati mesi la smetti di fumare che ti fa male no ma proprio no e passiamo ora una domanda di don vecchi che tra l'altro è uno degli iscritti più vecchi del canale lo avete visto apparire in varie istanze anche nei video che chiede che fine ha fatto il master che ti ha spinto a diventare un master non lo sa nessuno ok forse bisogna fare una risposta più approfondita mi sa di averlo già raccontato ma il motivo per cui ho cominciato a masterare quando ero non ricordo se era la fine delle medie l'inizio dei superiori o il primo secondo anno dei superiori comunque quando avevo 15 16 anni e che io giocavo in un gruppo il cui master era terribile ma veramente terribile sotto ogni punto di vista e dato che faceva così schifo alla fine io mi sono stancato e ho deciso guarda da oggi master o io in realtà è un racconto abbastanza comune in tutti quelli della mia generazione io sono la classe dell'84 si sono vecchio devo dire la verità non so che fine abbia fatto perché pochi anni dopo comunque quando ero ancora al liceo lui e la sua famiglia si sono trasferiti a milano e dato che era una persona con cui non è che mi piaceva avere più di tanto a che fare ho del tutto perso i contatti per quello che ne so abita ancora lì e non ha mai imparato niente su come si mastera perché è quel tipo di persona e adesso abbiamo calzi che chiede qualche aneddoto sulla miglior campagna cui partecipato come giocatore questa però non è una domanda ok l'importante è capirsi di robe da raccontare ne avrei a iosa ma probabilmente racconterò questa considerate questo è successo quasi vent'anni fa dovevamo andare a uccidere il vampiro nel mega dungeon master a un mio compagno università e lui aveva uno stile particolarmente trionfale esagerato di fare descrizioni quindi tutto quello che appareva nel suo quest era gigantesco smisurato e pomposo e arrivati alla fine di quello che doveva essere il dungeon del vampiro lui ha descritto l'ingresso veramente elaborato ma il punto centrale che la stanza in cui il vampiro ci stava attendendo era dietro questi due enormi portoni alti 10 metri in oro massiccio totalmente istoriati e noi avremmo dovuto trovare un modo per aprirli per passare fondamentalmente era una porta particolarmente complessa si doveva aprire un incantesimo il fatto è che noi siamo riusciti ad aprire la porta non era un problema quello poi ci siamo fatti due calcoli in tasca su quanto effettivamente oro c'era in portoni di oro massiccio anche perché per risolvere l'enigma della porta ci avevano fatti dare l'altezza precisa lo spessore preciso e tutto e quelle porte valevano qualcosa come 3 o 4 milioni di monete d'oro questo era dnd 3.5 quindi noi abbiamo aperto queste porte il vampiro ci ha accolti con il suo classico monologo da big bag evil guy mentre noi abbiamo semplicemente deciso di smontare le porte dei cardini buttarle dentro la nostra borsa conservante salutarlo e andarcene perché c'è chi se ne frega di uccidere il vampiro oramai eravamo ricchi sfondati il resto della campagna è stato noi che trovavamo modi per buttare soldi semplicemente perché avevamo molti più soldi di quello che il sistema di gioco era andato di gestire prendetelo come racconto cautelare per i nuovi master riflettete molto bene su quello che descrivete e ora passiamo a mattia di chio di cui sentirete parlare sia settimana prossima che sia nei primi video del prossimo anno cosa ti piace dei giochi di ruolo la narrazione collaborativa lo so che è una risposta banale ma quello che mi piace del gioco di ruolo è che non è semplicemente raccontare una storia ma è raccontare una storia insieme ad altre persone quindi devi adattarti a quello che dicono prendere spunti rielaborare gli spunti a me piace fare questo tipo i lavori collaborativi qual è il tuo manuale preferito dark heresy della fantasy flight li vedete quassù è l'intera serie sono un sistema percentuale io preferisco e sono ambientati all'interno dell'universo di warhammer che io apprezzo tantissimo una chicca di ambientazione qualsiasi che apprezzi particolarmente allora mi è capitato di tirare fuori questo aneddoto poco fa ma nell'ambientazione del primo diciamo vampiri mascherade il sistema magico è gestito in maniera particolare per cui se un mago cerca di fare qualcosa che palesemente impossibile meccanicamente potrebbe subire dei danni c'è una meccanica chiamata il paradosso i cattivi dell'ambientazione di mage di awakening sono basati sulla contraddizione di questa meccanica perché la tecnocrazia è un'organizzazione di maghi che ha deciso di sfuggire al paradosso inventando la scienza cioè convincendo la gente che quello che fanno è perfettamente razionale quindi possono usare la magia in maniera indisturbata e mi piace particolarmente perché è una mossa estremamente astuta da parte dei designer perché effettivamente integra molto bene le meccaniche di gioco in quello che è effettivamente la loro oltre ad essere una soluzione così banale che quando i giocatori scoprono cosa sta succedendo si sono tutti una face palm perché si era ovvio questo il modo per evitare quella meccanica ma nessuno ci aveva pensato fino a quel momento cibo preferito le gocciole ma solo chi è iscritto veramente degli albori del canale può capirla questa e chiudiamo le domande con una che in realtà è in attesa da praticamente l'anno scorso giorgio gandolfi anche lui lo avete visto apparire in vari video chiede se posso mostrare i libri che sono alle mie spalle sì questa stanza è un casino ma si può fare e cominciamo subito adesso qua sono passato al cellulare tra l'altro scrivi la tua avventura se lo tengo qua questo ovviamente lo vedete sullo sfondo e i tappi per la mia campagna di fallout allora questo che sia quello che vi interessa qua ho cominciato a vedere il nuovo materiale pubblicato di star wars anche se devo dire che preferisco la saga è il famoso libro sui limiti di cui mi hanno chiesto no è un romanzo di fantascienza il trono di spade tutto quello che è uscito dovrei lasciare lo spazio per quello che uscirà dopo ma lol stolas che il miglior personaggio del mondo punto sempre non accetto commenti a riguardo e poi qua abbiamo tutta la civil war originale la vabbè vans il la terra morente questa è la collezione di racconti da cui è preso il sistema magico di dnd poi adams e la guida galattica per autostoppisti e la paper dinastia di don rosa poi sempre roba di martin il signore degli anelli l'edizione l'unica vera se avete letto qualunque altra edizione avete letto edizione sbagliata mi dispiace non faccio io le regole nume nera un gioco di ruolo ispirato al d20 system ma qua c'è ancora dei vecchi dragon che parlano di draw che adesso non si rimettono neanche più rogue trader questi sono i quattro manuali che compongono i cinque manuali che compongono la base del sistema di gioco questa è un bel po' di manuali di pathfinder 1 e si il fatto che poi siamo stati pubblicati a giochi uniti hanno rovinato l'incasellamento tra l'altro qua vedete poi i modellini questa l'abbiamo fatta un paio d'anni fa nel modellismo col master kai tra l'altro se vi domandate dove sta qua su ci sta armalia questo è il quick start che è più spesso di alcuni altri manuali perché noi abbiamo voluto fare le cose esagerate qua facciamo la carrellata sulla 3.5 sono tutti i manuali e tra l'altro sotto c'è il picapone perché è abbastanza vecchio da ricordarlo la seconda edizione no la terza edizione di martelli da guerra vabbè questa è l'advance call of tulu storico questi non so a chi interessano sono i vecchi codex degli eserciti di warhammer ormai sono dieci anni che non aggiorno e tra l'altro questi sono i vari regolamenti se notate è diventato sempre più spesso man mano che il gioco andava avanti wide roof la rivista di warhammer e poi come chicca qua sotto il gioco in scatola di mondo disco la seconda edizione di space hulk e il vecchissimo battle master anche questo pochi sono abbastanza vecchi da ricordarlo ma andando avanti ah questa è la libreria che non vedete mai con diabolic e soprattutto vai romanzi eccetera tutto il materiale della 3.5 che non ho in originale il ventilatore senza di cui non vedreste la maggior parte dei video si ci sono anche gli ombrelli qua ci sono altra roba questo è dove tengo la roba di modellismo è un casino e questo però ce lo portiamo dietro perché devo farvi vedere quella che è la cosa interessante di questo posto cioè la vetrina delle miniature e voglio spendere un paio di parole su di lui lui era il mio personaggio in una quest che pilotava un robot che era talmente grande che a un certo punto ho voluto costruire il modello solo per far vedere agli altri quanto era grosso il mio personaggio rispetto ai loro e la cosa ha funzionato e tra l'altro poi questo modellino qua in uno specifico è stato usato come riferimento per il robot che vedete sulla copertina di armalia e qua c'è altra roba questa è una parte del mio schieramento di marine e sto cercando di ricomporre uno star quest da anni ma non ci riuscirò mai e qua un sacco di roba dei modelli che uso per poi giocare e diciamo che questa è la stanza che io uso per registrare questo è il tavolo sì che è più piccolo di quello che vi aspettate e diciamo che con il cameretta tour possiamo anche chiudere l'edizione di quest'anno un sacco di domande un sacco di roba da dire come sempre io ringrazio a tutti voi che seguite i miei video senza di voi io non potrei sentirmi una persona interessante prossima settimana ci sarà lo speciale di Halloween come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete l'ho potuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di Discord al gruppo i Telegram dove metto io i link ai video manualmente man mano che escono e come sempre io sono il Master CAE e noi ci vediamo nel nono anno del canale che vi è piaciuto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti